Le funzioni di comando degli alzavetro passeggero anteriori e posteriori possono essere bloccate premendo il contattore sulla portiera anteriore sinistra e successivamente sbloccate premendolo una seconda volta. Spostando la leva su ognuna delle portiere posteriori, ne viene impedito lo sbloccaggio dall'interno. Il sedile unico posteriore è suddiviso in due sezioni che possono essere abbassate manualmente. Grazie per la visione!